Fare Night Basilicata, la rubrica che ti guida nel mondo della notte Ed eccoci, finalmente siamo arrivati anche al momento in cui si parla di divertimento, di locali, di movida Insieme a me, non sono io che ne parlo, ma c'è il nostro amico Giammy Voice, buongiorno Giammy Buongiorno a tutti gli amici di Radio Laser, buongiorno a te Gianfranco, come va? Bene, bene, tu dove stai? Come stai? Io sto benissimo, anche in vista di questa grande estate che sta decollando Eh, sta per partire, ormai ci siamo anche se poi il caldo è già arrivato, dove ti trovi di preciso? Io oggi sono a Fenice, ma questa sera sarò in un locale della Basilicata, quindi Ossicobriaca di Fardella Ma ne parliamo magari negli eventi dell'Affare Night Eh, partiamo infatti dagli eventi di quest'oggi, quindi Ossicobriaca, come stavo dicendo Fardella, Sassore 18 con Buffet e a seguire nel topocena esistizione live del duo acustico Reduci anche dall'esperienza dei The Voice of Italy, quindi una stagione appena passata alla grande per questi ragazzi La notte non termina qui perché a scaldare l'ambiente ci sarà il live set di Pachichi DJ Musica live che sarà anche protagonista del capoluogo allo 0971 con lo show dei Globster Una delle più riconosciute tribute band dei news Rimanendo a potenza, ragazzi, sempre al Trittoria Caffè, arriva per la prima volta l'originale Policine Patti Con il riferimento non solo al Leverance di alta qualità ma anche all'allecchimento particolare Con la tematica delle bolle di sapone In console il miglior revival anni 70-80 grazie alla musica di Carletto DJ Che ormai in Basilicata conoscono tutti Le vere e proprie notti di pro Gianfranco come quelle che stavamo descrivendo appunto anche quante settimane fa Partono di sabato e quindi partono da domani sera Dopo il grande successo di sabato scotti, inaugurazione Shari Torna il medesimo locale a Montemurro con il party performativo Sargato per Articles Animation In cui gli artisti di strada, i ballerini, i performer si fondono insomma in un unico spettacolo Il tutto accompagnato dal tessi Mike M e la voce di Danilo Dienzi Invece nella Nightlife in questo campo per quanto riguarda la Costa Ionica Torna un locale storico, torna a Castellaneta Marina lo Sporting Fisco Club La programmazione artistica dell'estate 2015 pensata da Mr. Frank Che è uno dei più grandi nomi del club in Lucano Nell'occasione del 13 giugno, quindi di domani sera Sarà protagonista, anche lui in console insieme a Nicola Amoruso DJ, quindi in arte Amor House President DJ da dieci anni di locali come Sudiretici, Divina Follie E Massimo Rago, uno dei più forti DJ della storia disco pugliese Come se questo non bastasse, la splendida voce di Elizabeth E lo stile inconfondibile di Giammi, quindi il mio Prenderemo ancora più unica questa notte, li aspettiamo domani sera Portandoci a Pazitalia, la taglia dei delfini C'è un spettacolo con i Radio Freccia, cover fans di Niga 2 E aspettive che si riuscirà a chi mi si parla Ritornando sulla vostra iorica per gli amanti del mondo techno Tropicana Beach organizza Lady Sufari Con special dance from Ticilla, la famosa piramide del cocorico DJ Adal New warm up affidato a MTV da Bompi Raul Fanzi Diesti E' stato in calza e quindi arriva anche in località lontane dal mare Partiamo della location Icaro di Pignola Che ospiterà il party quella a Mare del Sistema domenica mattina Un pool party dove l'animazione di G7 e tanti buoni drink La faranno da padrone anche per il secondo anno Visto che questa è stata un'esperienza, un progetto mondiale iniziato l'anno scorso Chiudiamo con il Dolce Vida di Salerno Quindi continua la limited station iniziale Tecno Ofici Raffaele Atanasio, Manuel Di Martino Per la rubrica fare night è tutto Vogliamo un'occasione per ringraziare ancora Cattellendi Il mio attore di sedio come sempre Vendita salda e riparazione di macchine Buon weekend e buona movida a tutti da fare Night da Gianni e da Movida Lucana E quindi anche a te Gianfranco e a tutti gli amici di Radio Laser Ecco ricordiamo che è una rubrica cura di Movida Lucana Località e Eventi della Basilicata by Night In collaborazione con Radio Laser Appuntamento che si può ascoltare ogni venerdì in diretta alle 11.30 E poi si può leggere sul quotidiano della Basilicata Presente durante appunto l'uscita del venerdì nella sezione dedicata agli spettacoli Giusto? Giustissimo, sei sempre molto preciso Perfetto, io ringrazio Jamie Voice A questo punto buon weekend, buon lavoro e a venerdì prossimo Grazie, buona movida a tutti e ci sentiamo venerdì prossimo Ciao Fare Night Basilicata La rubrica che ti guida nel mondo della notte